La gente, non l'ultimo arrivato, perché gente che ha faticato e lavorato una vita non merita di andare a raccattare le arance in mezzo alla strada sabato pomeriggio. Poi per carità di Dio, non siamo dei geni, non siamo dei maghi, non è che votando Lega diventiamo tutti belli, ricchi, simpatici, intelligenti, non è che votando Lega il Milan torna a vincere lo Scudetto, perché qua ci vuole qualcosa di più di un voto, ci vuole un mezzo miracolo sostanzialmente, anzi se c'è qualcuno che vuole comprare il Milan sono a disposizione, dateci una mano perché siamo in grossa difficoltà. Però al di là dello scherzo, e chiudo, il 31 maggio non c'è solo in ballo il futuro di Montecatini, o l'ospedale di Pescia, o la AS di Massa, o dei trasporti da quarto mondo perché un turista che arriva in stazione a Montecatini si domanda se è arrivato a Montecatini o se è sceso a Beirut. E quindi non so come...